Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale, sono Elisa e nei miei video parlo di casi true crime, storie di cronaca nera e più in generale tutto quello che di inquietante riesco a trovare sul web. Se queste tipologie di video vi possono interessare assicuratevi di iscrivervi al canale, altrimenti nessun rancore e iniziamo con il caso di oggi. Per la storia di oggi ci troviamo a Roise City, una città di circa 9000 abitanti a nord del Texas. Roise City è una città davvero piccola, di quelle dove accade davvero pochissimo e soprattutto niente al di fuori del normale. È una città prevalentemente contadina, infatti tutto attorno è pieno di campi da grano, di coltivazioni, insomma la maggior parte della gente che vive lì ha un'occupazione appunto nell'ambito dell'agricoltura. Ci troviamo nel 2016, più precisamente il 9 settembre e in questo video, al contrario degli altri video, partiamo diciamo subito diretti con una chiamata al 911 che sarà poi l'inizio di tutta la nostra storia. Il 9 settembre infatti arrivò una chiamata alla polizia proveniente proprio da una zona circostante a Roise City. La chiamata era stata effettuata da una donna che però non disse praticamente niente durante i pochi secondi che durò questa chiamata. La si poteva sentire piangere e respirare in modo affannato, quasi come se stesse avendo una sorta di attacco di panico. Come vi dicevo questa signora non dice niente e dopo pochi secondi o cade la linea o comunque qualcuno dall'altro capo mette giù il telefono. Ho trovato la registrazione di questa chiamata, ve la faccio sentire anche se dura davvero pochissimi secondi. Ora questa chiamata era durata davvero poco ma evidentemente abbastanza perché potessero rintracciarla. E non riuscirono ovviamente a reperire il punto esatto in cui si trovava il telefono però riuscirono a restringere il campo ad un'area a circa un'ora a nord da Dallas. E circa a dieci minuti di auto a sud da Roise City. Quindi ovviamente inviarono delle volanti che iniziarono a cercare in quella zona. E quella zona era un'area estremamente isolata, infatti c'erano davvero, cioè letteralmente solo campi e quella strada in particolare che li percorreva era una strada che usavano principalmente i contadini per recarsi al campo molto spesso con dei trattori, dei camion, insomma dei veicoli che venivano utilizzati appunto nel loro lavoro sui campi. In più era notte quindi era ancora più strano che ci fosse qualcuno in quell'area lì. Quindi come vi dicevo alcune volanti della polizia si recarono sul luogo e iniziarono a percorrere questa strada. E ad un certo punto un poliziotto riuscì ad intravedere una donna che stava correndo praticamente in mezzo alla strada e stava facendo dei cenni appunto che sembrava quasi stesse chiedendo aiuto. Nei filmati della dashcam del poliziotto vediamo che scende dall'auto, raggiunge questa donna che inizia a gesticolare e a indicare un punto alle spalle del poliziotto. L'audio di questo video che ho trovato è molto disturbato quindi vi faccio vedere i filmati, nel frattempo vi racconto io verbalmente cosa disse la donna. Era evidentemente in stato di agitazione, infatti dice qualche frase qua e là che sembrano un pochino disconnesse l'una con l'altra. Comunque dice praticamente che qualcuno ha sparato a suo marito e indica un punto dove secondo lei appunto si trovava la persona che aveva sparato a suo marito. Il poliziotto quindi fa salire prima questa donna nella sua auto in modo che fosse al sicuro e poi si avvia verso il punto indicato della signora. Percorre alcuni metri e poi trova effettivamente un veicolo che aveva ancora le luci accese. Quindi si avvicinò ovviamente all'auto con cautela anche perché a quanto va detto la signora c'era una persona che aveva sparato a qualcun altro. Quindi si avvicinò a quest'auto e purtroppo vide dal lato del passeggero il corpo di un uomo con una ferita alla testa completamente coperto di sangue. Pochi metri più avanti di questo veicolo trovò un altro veicolo abbandonato, non c'era nessuno al suo interno e al contrario del primo veicolo quest'altra macchina aveva le luci spente. Ovviamente arrivarono i rinforzi, arrivò un'ambulanza purtroppo per l'uomo nel sedile del passeggero non c'era più niente che si potesse fare. Però ovviamente soccorsero la donna che era palesemente sotto stato di shock. Questa donna viene fatta salire sull'ambulanza, insieme a lei salì anche un poliziotto che praticamente mentre il paramedico si stava occupando appunto di misurare la pressione, insomma di assicurarsi che la donna stesse bene, le fece qualche domanda per cercare di capire che cosa fosse successo. La donna aveva le mani sporche di fango e di sangue, però a parte lo stato di shock in cui era, era assolutamente illesa, non aveva nessun tipo di ferita e il sangue non era evidentemente suo. Questa donna si identifica come Casey Pointer e disse appunto che la persona a cui avevano sparato era suo marito. E dopo aver detto appunto che avevano sparato a suo marito, chiede anche ai poliziotti se suo marito stesse bene. In quel momento il poliziotto non le disse che suo marito era deceduto perché come vi dicevo questa donna già si trovava in uno stato di shock, faceva fatica a parlare. Si vede dalle riprese che è in uno stato di iperventilazione, quindi giustamente questo poliziotto non voleva dargli un'ulteriore notizia per cui magari questa donna non sarebbe più stata in grado di raccontare che cosa fosse successo. La vittima era effettivamente suo marito, si chiamava Robert ed era un uomo estremamente rispettato nella comunità. Infatti faceva come lavoro il pompiere e in più di un'occasione si era distinto dai suoi colleghi per il suo coraggio proprio al di là di ogni immaginazione. Aveva molto spesso rischiato la vita, come in realtà immagino un po' tutti i pompieri, nel senso che è un lavoro sicuramente pericoloso. Però Robert in particolare aveva rischiato molte volte la vita in situazioni dove magari i suoi colleghi non si volevano addentrare per ovviamente paura della propria incolumità. Invece lui non aveva esitato e aveva salvato appunto delle persone che altrimenti sarebbero sicuramente morte. Robert aveva alle spalle in realtà un altro matrimonio con una donna durato 19 anni dalla quale erano nate due figlie. Poi aveva lasciato questa signora qui e aveva incontrato Casey che era in realtà molto più giovane di lui, infatti avevano un gap di età di circa 20 anni. Dopo un anno dal loro primo incontro i due si sposarono con Robert che aveva 40 anni e Casey che ne aveva solo 20. In ogni caso evidentemente tra i due le cose stavano andando bene, a meno di un anno dal matrimonio Casey scoprì di essere incinta e poco dopo nacque la loro bambina che decisero di chiamare Addison. Casey invece svolgeva in quel periodo due lavori, lavorava come assistente da poltrona in uno studio dentistico la mattina e il pomeriggio andava ad aiutare come commessa in una pasticceria. Tornando alla Casey nell'ambulanza la donna piano piano riuscì a spiegare che cosa fosse successo. Disse che stava percorrendo quella strada, doveva incontrarsi con suo marito ad un ristorante, lei aveva appena lasciato Addison, loro figlia, dalla babysitter, mentre Robert si sarebbe recato al ristorante direttamente dal lavoro. Durante il tragitto però era uscita di strada e la macchina era rimasta impantanata nel fango, aveva provato più volte a liberare la gomma per riuscire a tornare in strada e questo era il motivo principale per cui era sporca di fango, però non c'era riuscita quindi aveva chiamato suo marito in modo che potesse aiutarla. Dopo circa un'ora il marito l'aveva raggiunta, aveva parcheggiato l'auto poco più avanti rispetto alla macchina di Casey e a questo punto era già buio, all'improvviso Casey disse che una persona era spuntata dal nulla dai campi circostanti e aveva sparato a suo marito. Lei nel panico era scappata ovviamente col suo telefono, aveva fatto quella chiamata al 911 che avete sentito, non era riuscita molto a parlare, evidentemente sotto stato di panico e poi le era accaduto da qualche parte il telefono e la chiamata si era interrotta. Il telefono di Casey infatti verrà poi ritrovato per terra, come raccontato dalla donna, a pochi metri di distanza dalla sua auto. La cosa strana è che non era stato rubato niente, cioè Robert aveva ancora addosso il suo cellulare, il suo portafoglio, la borsa di Casey che era ancora nella sua auto non era stata toccata, aveva dentro diversi contanti, il portafoglio, altre cose di valore, insomma non era stata evidentemente una rapina finita male. Robert era stato colpito alla testa, infatti era l'unica ferita in realtà che aveva quest'uomo, quindi non aveva lottato in qualche modo con l'aggressore. E da questa ferita riuscirono praticamente a capire che la persona che gli aveva sparato doveva averlo fatto ad una distanza molto ravvicinata dalla testa. Che di nuovo era stata una cosa decisamente rischiosa anche perché Robert, vabbè avrete visto dalle foto, era un bello mone ben piazzato, era stato sicuramente un rischio avvicinarsi così tanto e rischiare appunto magari di dover finire a lottare con lui. Di nuovo mi scuso per la qualità dei filmati che ho trovato, l'audio forse non è... Cercherò insomma nel momento in cui editorò il video di migliorarlo il più possibile. Comunque vi faccio vedere qualche spezzettone di quello che vi ho già raccontato, più per farvi vedere lo stato in cui si trovava questa signora, che peraltro dato che vi ho già raccontato diciamo il grosso di quello che è stato detto. Per quanto sia il rischio, mi ha detto? Robert! Robert. What I need you to do is enter your nose, after your mouth, slow your breathing down, concentrate on that. Tell us what, what, what happened. I went to go get, and I just, I heard a shot, and the jeans started rolling, and I didn't see anything, and I saw the shadow. Is he okay? Just, just breathe for me, okay? Just, just breathe for me. La polizia notò quasi da subito che Casey aveva un comportamento un po' strano, che sicuramente poteva essere spiegato dal fatto che di nuovo questa donna si trovava, sembrava almeno trovarsi sotto shock. E diciamo che appunto disse un po' di cose scollegate e ad un certo punto iniziò a parlare in particolare con un poliziotto della sua situazione sentimentale con Robert, infatti raccontò a quest'uomo che in realtà avevano diversi problemi di coppia all'interno del matrimonio perché ovviamente lavoravano entrambi moltissimo, soprattutto Robert aveva degli orari diciamo per il suo lavoro che cambiavano un po' all'improvviso, magari si ritrovava dei giorni dove non tornava a casa per il suo lavoro, quindi questo era motivo di discussione all'interno della coppia. E di nuovo è sicuramente un po' strano, nel senso non è sicuramente la prima cosa che mi verrebbe da raccontare a un poliziotto in una situazione del genere, però all'inizio la giustificarono semplicemente appunto col fatto che evidentemente si trovava in uno stato di grande agitazione. Dopo essere stata visitata dal personale medico, Casey venne condotta in centrale dove la interrogarono diciamo ufficialmente e in realtà fu in questo momento in cui le dissero che purtroppo suo marito era deceduto. E questa signora ebbe per l'ennesima volta una reazione un po' strana alla cosa, ovvero non pianse, insomma non ebbe la classica reazione che una persona si potrebbe aspettare, anzi sembrò quasi di aver prima dovuto elaborare l'informazione prima di iniziare a disperarsi però senza lacrime. E questa cosa fu diciamo un campanellino d'allarme per la polizia, nel senso che da quel momento in poi iniziarono a guardare Casey con occhi un pochino diversi rispetto a prima. E infatti durante i primi minuti dell'interrogatorio notarono una seconda incongruenza nella storia della donna. Infatti lei aveva raccontato che una volta sentito lo sparo si era avvicinata al marito, lo aveva toccato per vedere insomma se fosse vivo, se stava bene eccetera, e si era macchiata col suo sangue, o almeno questo era quello che aveva raccontato. Il fatto è che le braccia di Casey erano sia sporche di sangue, ma non sembravano delle macchie compatibili con un semplice appoggio del braccio su una zona con del sangue. Anzi sembravano quasi che fossero dei veri e propri schizzi, infatti il detective che la sta interrogando glielo fa pure notare, le dice guarda che il sangue che hai sul braccio cola, cioè ha lo schizzo al contrario, praticamente verso su, non so se mi sto spiegando, vi metto comunque le foto in modo che possiate capire. Il sangue non era collato praticamente verso il basso, come se uno avesse toccato una parte con del sangue e poi avesse staccato, quindi il sangue cola così. E con lei aveva dei vari schizzi che andavano verso l'alto. E questa posizione appunto di sangue poteva essere molto più compatibile con una persona che si trovava di fianco a un'altra persona a cui avevano sparato. Mentre secondo la prima versione di Casey, lei si trovava molto lontano, tant'è che non aveva assistito allo sparo di per sé, non aveva visto la persona, aveva semplicemente sentito il rumore. C'era però una cosa che non tornava, ovvero il fatto che lì intorno, cioè avevano analizzato ovviamente centimetro per centimetro tutta l'area circostante ai due veicoli, non trovarono nessuna pistola, nessun bossolo, non trovarono nessun segno dell'arma del delitto. In più Casey non aveva mai acquistato delle pistole, non c'erano armi in generale registrate a suo nome. Cosa che sicuramente non vuol dire tantissimo, nel senso che sappiamo tutti che si possono comprare delle armi anche illegali, non registrate a proprio nome. Però sicuramente insomma era qualcosa che non tornava con l'ipotesi che questa donna avesse semplicemente sparato a suo marito per un motivo o per un altro. Quindi a questo punto i poliziotti, i detective erano convinti al 100% che gli avesse sparato lei, però di fatto non avevano nessun'altra prova, quindi dovevano in qualche modo cercare di tirar fuori di più da questa donna. E purtroppo per loro in realtà quello che è successo non è quello che pensavano. Dal suo lato Casey iniziava a sentirsi messa alle strette, era palese per lei che queste persone non la vedessero più come una vittima, ma anzi come qualcuno di coinvolto nel fatto. E fu probabilmente anche per questo motivo che Casey iniziò a tirar fuori una nuova, diciamo, versione dei fatti. E iniziò a parlare di una persona nuova, che ovviamente non aveva mai nominato alla polizia. Iniziò a parlare di un certo Michael Garza, che era un uomo sulla Trentina che Casey a quanto pare frequentava. Infatti all'inizio lo descrive come un suo amico, poi il poliziotto inizia a fargli più domande, e lei dice, no effettivamente più che un amico probabilmente è un amante. Casey inizia a raccontare alla polizia che suo marito Robert era sempre stato molto violento nei suoi confronti, dei primissimi step e stadi della loro relazione. E quindi per questo motivo lei si era, diciamo, rintanata, aveva trovato supporto e sollievo in un'altra relazione, quella con Michael. E qua inizia un po' a, insomma, dare un'ipotesi, puoi dire però no, forse non è vero. Inizia a dire di aver parlato a Michael di questa sua situazione familiare, e che Michael si era sempre, diciamo, espresso in maniera molto violenta e offensiva nei confronti di Robert, soprattutto quando aveva saputo che le metteva le mani addosso. Anzi, Casey raccontò anche alla polizia che lei in realtà non era un granché innamorata di questo ragazzo, nel senso, per lei era semplicemente una relazione extraconiugale per staccare dalla sua relazione con Robert. Invece Michael sembrava effettivamente innamorato, le diceva più volte appunto che l'amava, che avrebbe fatto qualsiasi cosa per lei. Quindi secondo Casey era plausibile che magari Michael, o magari no, continua a dire potrebbe essere stato lui, però no, poi dice, beh lui è un camionista, doveva essere in realtà da tutta altra parte, quindi magari non è stato lui, o magari sì, insomma, va avanti e indietro un po' con questa teoria. In ogni caso, ai poliziotti sembrava strana anche questa versione, perché voglio dire, se davvero tu stavi andando al ristorante a fare, diciamo, un appuntamento con tuo marito, ti impantani nel fango per sbaglio, lo chiami come è possibile che Michael era già lì pronto a sparargli, insomma, c'erano delle cose che non tornavano. In più, nel frattempo ovviamente che questa donna parlava, c'erano un sacco di poliziotti che stavano indagando su lei, su Robert e su questo Michael. Ovviamente contattarono anche i familiari di Robert, tutte le persone che lo conoscevano, e nessuno di loro disse mai che Robert potesse essere un uomo violento, anzi la maggior parte dei suoi conoscenti lo descrisse come il classico gigante gentile, cioè era un uomo negrosso che però non avrebbe mai fatto del male a una mosca. Ad un certo punto il detective che la sta interrogando, probabilmente anche un po' spazientito dalla situazione, da queste ipotesi che continuava a tirar fuori, forse sì, forse no, le fece una domanda davvero diretta, e fu solo a quel punto che la facciata di Casey iniziò a sgretolarsi. Non c'è nessuna domanda. Non ho visto niente. Non lo so se lo ha fatto. Non lo so. Ha ucciso il tuo amico. Ha ucciso il roba. Puoi dire la lettera per me? A questo punto, Casey cambia versione. Dice di aver visto effettivamente Michael che sparava suo marito. Disse di aver tentato di fermarlo e insomma di aver cercato di dirgli di non farlo. E anzi disse che era stato Michael stesso a prenderle il telefono dalle mani, a mettere giù e a buttare il telefono per terra. Disse di non aver, di non sapere assolutamente come mai lo avesse fatto. Disse di non avergli mai chiesto in alcun modo di far del mare a suo marito. Gli aveva semplicemente raccontato la sua situazione familiare e delle presunte violenze che subiva da parte di suo marito. Di nuovo la polizia non credette molto a questa versione semplicemente per il fatto che, di nuovo, con che probabilità nel mezzo del nulla tu ti impantani e sbuca fuori il tuo amante che uccide tuo marito. Insomma è una coincidenza davvero un po' troppo strana per poter essere considerabile una cosa che è successa un po' a caso. E a questo punto la versione di questa donna cambiò di nuovo. Ovvero disse che Michael, il suo amante, l'aveva convinta che se ne sarebbe occupato lui, quindi aveva pianificato il tutto, le aveva detto fai finta di impantanarti lì, chiama tuo marito, io lo uccido, sembrerà il tutto una rapina. Come potete immaginare a questo punto la prima cosa che fece la polizia fu quella di cercare questo Michael per capire dove fosse finito, se avesse un alibi o cose del genere. E nel frattempo che alcuni poliziotti cercavano Michael ovviamente continuarono a concentrarsi su Casey e suo marito. Innanzitutto non trovarono, e vi avviso non lo troveranno mai, nessun tipo di indizio di prova che potesse confermare in qualche modo questa insinuazione da parte di Casey che suo marito la picchiasse. Tutti lo descrivono come una persona assolutamente antiviolenta, come una persona buona. Lei non aveva nessun tipo di prova, non aveva segni, non aveva foto di segni e cose del genere. In secondo luogo scoprirono che il loro matrimonio non stava andando per niente bene, anzi, Robert a quanto pare qualche giorno prima aveva contattato un avvocato divorzista e si era anche rivolto ad un investigatore privato perché aveva il sospetto che sua moglie lo tradisse. Scoprirono un'altra cosa, ovvero che dal divorzio Casey non avrebbe guadagnato un singolo dollaro. Questo perché prima di sposarsi avevano firmato un contratto prematrimoniale che praticamente garantiva a entrambi che una volta finito il matrimonio ognuno se ne sarebbe andato per la sua strada con i soldi, con le proprietà diciamo le cose che avevano prima di sposarsi. Quindi di nuovo dalla separazione lei non ci avrebbe guadagnato assolutamente nulla. E nel frattempo appunto perché comunque all'inizio una effettiva possibilità e probabilità che magari Robert fosse stato effettivamente violento nei confronti di Casey c'era. Quindi la polizia iniziò a cercare degli indizi in quel senso. Guardarono alcune telecamere di videosorveglianza, anche la videocamera di sorveglianza del... come si chiama? Tipo sapete quei campanelli che usano in America. In realtà ci sono anche qua però sono più utilizzati lì. Avevo fatto anche un video, ve lo lascio qua sopra, sui filmati più inquietanti catturati appunto dalle ring camera. Che praticamente sono queste sorte di videocamerine che sono inserite sotto il citofono, sotto il campanello della porta e appunto riprendono tutte le persone che si avvicinano al tuo ingresso. E da questi filmati di videosorveglianza trovarono escluso Michael non uno, non due, ma ben tre altri uomini con i quali Casey aveva una relazione. Quindi sicuramente donna molto impegnata, c'aveva un marito, una figlia e in tutto ben quattro amanti, questi tre uomini di cui non sappiamo il nome, non sappiamo niente perché ovviamente per tutelare la loro privacy. In ogni caso riuscirono a rintracciarli e li interrogarono per cercare di capire appunto se sapessero qualcosa della storia o cose del genere. Ora due su tre dissero che anche a loro Casey aveva raccontato che Robert insomma era stato violento più volte nei suoi confronti. Uno se ne era lavato le mani, nel senso che diciamo si intratteneva in quella relazione con Casey, semplicemente per una questione carnale. L'altro invece era effettivamente preoccupato, a prescindere dal fatto che fosse interessato a una relazione carnale o meno, era un essere umano con un cuore, una donna che ti viene a dire mio marito mi alza le mani, ovviamente si era preoccupato. Aveva cercato più volte di farla andare alla polizia, in un'occasione in particolare l'aveva fisicamente portata alla centrale, però lei si era sempre rifiutata di fare qualsiasi tipo di accusa più formale alla polizia. Il terzo uomo non sapeva niente di questa storia, anzi non aveva la più palida idea che Casey fosse nemmeno sposata. Lei gli aveva raccontato di essersi divorziata nel 2014, quindi non aveva assolutamente idea né che lei frequentasse altri uomini né tantomeno che avesse ancora un marito. A questo punto non trovano Michael, non lo trovano da nessuna parte, lo cercano a casa sua, non c'era nessuno, lo cercano addirittura dai familiari, si recano a casa della madre di Michael, che dice di non sapere dove sia suo figlio, diciamo che perquisiscono anche per sicurezza la casa di questa donna, per essere sicuri che non lo stessero nascondendo, proteggendo, però non lo trovano. Quindi a questo punto diciamo che hanno un caso praticamente senza prove. Quindi fanno un tentativo, effettivamente Casey non si è aperta totalmente con loro, magari lo avrebbe fatto se l'avessero fatta parlare con i suoi parenti, i suoi familiari. Ed è per questo motivo che nella stanza dell'interrogatorio fanno entrare sia la madre di Casey che il suo patrigno, con il quale la ragazza aveva un legame bellissimo da quando era molto piccola. E questo diciamo colloquio tra virgolette con i suoi genitori, cioè con sua mamma e il suo patrigno, è difficile da guardare perché la madre di Casey in particolare è decisamente distrutta da questa cosa, dall'ipotesi che sua figlia potesse essere coinvolta in qualcosa del genere. Quindi anzi, quando Casey inizia a parlare la interrompe spesso e sembra quasi come, e come biasimarla, sembra quasi che non voglia sentire che sua figlia le dica certe cose. Il patrigno di Casey invece, grande uomo, cioè se non ci fosse stato lui, chi lo sa come sarebbe andato questo caso, nonostante sia sicuramente emotivamente distrutto anche lui, rimane per tutto il tempo attaccato a Casey, le tiene le mani, gli parla con una voce proprio calmante, rilassata, tranquilla, non la rimprovera come al contrario stava facendo la madre, quindi diciamo che ebbe il comportamento perfetto per riuscire ad ottenere un po' di più da Casey. Ed è proprio parlando con lui che Casey si fa sfuggire una frase che le costerà poi tutto il resto, ovviamente. Ovvero Casey dice, non volevo che lo uccidesse, volevo solo che lo spaventasse, implicando ovviamente che in qualche modo era stata la mandante o comunque era in qualche modo coinvolta in quello che era successo. Ovviamente bisognava ancora sentire una persona, anzi trovare prima di sentire questa persona, ovvero Michael. Lo cercarono ovunque, pareva introvabile, non si sa e non si saprà mai ancora adesso, non si sa dove sia finito in tutto questo tempo, come abbia fatto a non farsi trovare da nessuno. Comunque per più di un mese lo cercarono tutti i giorni, provarono tutte le ipotesi possibili e non lo trovarono. Finalmente, per fortuna, dopo un mese, non lo so, probabilmente stanco di scappare o di nascondersi, Michael si consegnò alla polizia, si presentò alla centrale, disse, mi state cercando, sono Michael Garza. Quindi ovviamente a questo punto la polizia voleva sentire una confessione anche da parte sua, possibilmente che combaciasse con la confessione fatta da Casey. Però quest'uomo si avvalse della facoltà di non rispondere, non dirà mai niente, parlerà solo tramite i suoi avvocati. In realtà non ho infatti nessuna registrazione di lui che parla perché davvero non disse una parola alla polizia, ai detective. Quindi a questo punto la polizia aveva la prova che Robert si fosse rivolto a un avvocato, non aveva trovato prove che confermassero il fatto che Robert era stato violento, avevano la prova che Casey avesse un bel po' di amanti. Il fatto è che l'unica, tra virgolette, prova che dimostrasse che Casey e Michael centrassero qualcosa era quella frasetta che aveva detto Casey al suo patrigno, che non era molto e sicuramente non avrebbe retto in un intero processo al tribunale. Le indagini a questo punto continuarono per circa un mese, nel frattempo Casey e Michael vennero arrestati e tenuti in prigione a titolo diciamo precauzionale, penso che si dica, e stavano cercando insomma più prove possibili per poter costruire un processo che potesse reggere effettivamente in tribunale. e non trovarono niente fino a quando, per un'ennesima botta di fortuna in questo caso, a circa tre mesi di distanza dall'incidente, un contadino che stava lavorando la terra in un campo poco distante da dove era avvenuto il fatto, trovò una pistola. E la chiamo pistola avrà sicuramente un termine più specifico, sembrava quasi un fucile, non lo so, vi faccio vedere ovviamente le immagini, avrà sicuramente una definizione migliore. Comunque quella pistola, quell'arma era registrata a nome di Michael, aveva sopra le impronte di Michael, aveva sopra degli schizzi di sangue appartenenti a Robert, in più il proiettile che venne ritrovato nel cranio di Robert combaciava con i proiettili che sparava quest'arma, e in più, come se tutto questo per me non bastasse, erano già prove schiaccianti così, in più Michael era molto attivo su Facebook, aveva una foto del profilo dove teneva quell'arma in mano. E trovarono anche dei messaggi, nelle indagini trovarono anche dei messaggi tra Casey e Michael, dove praticamente lei gli diceva cose del tipo, posso uscirne solo in un modo da questa situazione, parlando ovviamente della situazione con suo marito, e lui le risponde, gli farò saltare la testa. Direi che più chiari ed espliciti di così non possiamo. Quindi si arrivò finalmente al processo, Michael continuò a dichiararsi non colpevole, e disse di non saperne niente di tutto, nonostante ovviamente le prove a suo carico erano schiaccianti, e venne condannato a 99 anni di prigione, che è un ergastolo praticamente. Casey continuò a mantenere la versione di violenza domestica, e del fatto di averne parlato con Michael, di non aver mai chiesto a Michael di occuparsi della situazione, e che così di punto in bianco a questo uomo era venuto in mente di magari seguirla in auto, lei si era impantanata, era rimasto nascosto, aspettando il marito e poi uccidendolo di fatto. Nonostante lei continuò a mantenere questa versione e dichiararsi innocente, viene giudicata anche lei colpevole, e viene condannata all'ergastolo. Il caso di oggi ho voluto affrontarlo in una maniera un po' differente, perché era un caso diverso dal solito, c'erano un sacco di video di dashcam e cose del genere, l'ho affrontato un pochino più cronologicamente del solito, e mi ha fatto pensare una cosa, ovvero chissà quanti dei casi di cui parlo anch'io, o dei casi di cui sentiamo parlare in generale, hanno una confessione che viene presa per vera, ma è totalmente falsa. Cioè sto iniziando a pensare a un sacco di casi di cui ho parlato anch'io, dove vengono arrestate persone, vengono chiusi casi sulla base di una confessione, chissà quanto dietro ancora c'è, che non è mai stato raccontato dalle persone coinvolte. Quindi mi ha fatto sicuramente riflettere su questo lato qui del true crime. In ogni caso si conclude così anche il caso di oggi. Come al solito fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti. Se volete supportare il mio canale ricordatevi di iscrivervi, lasciare un like, un commento, potete anche se volete seguirmi su Instagram mi trovate come Elika Pano. Grazie come al solito di essere arrivati fino a questo punto del video, per il caso di oggi era tutto, noi ci rivediamo con il prossimo video. A presto!